Ancora una svolta nel caso dell'omicidio di Elisa Claps, la 16enne potentina ritrovata morta nel sottotetto della canonica della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo scorso, a 17 anni dalla scomparsa. Né il primo, né il secondo DNA appartenenti a due uomini isolati tra i tanti reperti sequestrati nel sottotetto e nei locali del circolo culturale Newman appartengono a Danilo Restivo, l'unico indagato del caso. A stabilirlo il gruppo di periti coordinato dal professor Vincenzo Pascali, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica di Roma, consulente del gruppo di Salerno, cui sono stati già trasmessi gli esiti degli accertamenti genetici. Il DNA di Restivo era stato ricavato da una tazza e un bicchiere dell'uomo sequestrati con altri oggetti personali dalla polizia inglese che su richiesta della magistratura di Salerno li ha inviati in Italia. Il confronto con il suo profilo genetico è stato fatto con tre DNA estratti da residui di liquido seminale isolati su un materasso che era nel sottotetto e su uno strofinaccio sequestrato nei locali del centro culturale Newman. Due dei DNA sono risultati di una stessa persona, il terzo e di un altro uomo. Una squallida alcova aveva definito la famiglia Claps quel sottotetto della chiesa. Restivo è indagato in Italia per l'omicidio volontario di Elisa Claps e nel Regno Unito, dove è detenuto, per l'omicidio della sarta inglese Eder Barnett. Non si è fatta attendere la reazione di Giuliana Scarpetta, la legale della famiglia Claps. Non c'era dubbio che non fosse suo quel DNA che si trovi in traccia del DNA di Restivo nel sottotetto. E' secondo me improbabile e, come più volte detto, del tutto inessenziale. Lo ripeto, continuato, non sappiamo a chi fosse appartenuto quel materasso, riferendosi a quello ritrovato nel locale in cui era stato lasciato il cadavere della ragazza. Né da quanto tempo fosse lì. Quel ritrovamento è stato solo la conferma del fatto che in quella chiesa si consumassero atti sessuali. Le prove della colpevolezza di Restivo, sostiene, sono più che sufficienti. E inoltre, ha aggiunto, ha tentato di stuprare Elisa ma molto probabilmente non ci è riuscito perché lei si è difesa strenuamente. Che DNA cerchiamo? Il legale commenta anche la perquisizione a casa dei genitori di Restivo. Era doverosa, ha detto, hanno preso il computer della corrispondenza, ma è chiaro che nel momento in cui è venuto fuori il corpo di Elisa, seppure ci fosse stato qualcosa, qualsiasi cosa essa fosse, è stata fatta sparire.